Oh, di un po', come va la vita? Non va affatto Come, come? Ho detto, non va affatto Con chi è che stai parlando? Oh, con un gatto, ma è stato... Un gatto, e dov'è? Lassù Oh Eccola di nuovo Attenta, piccola, se io perdo le staffe, tu perdi la testa Siamo intesi? Sai, potremmo farla arrabbiare sul serio Vogliamo provarci? Oh, no, no Ma ci sarebbe da ridere Per favore Chiudi il becco! Qualche testa rodolerà per questo La tua! Tagliatele! Ma, 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 rifletti, mia cara Non si potrebbe farvi un processo, eh? Processo? Prima, ma, appena un processetto Benissimo, allora Si radone il tribunal!